a questo concetto, come può l'essere umano identificarsi con la coscienza dell'universo, abbracciando queste realtà, queste consapevolezze, questi principi. Cos'è l'uomo? Vi siete mai domandati chi siete? Non all'anagrafe, non in famiglia, non tra amici, ma profondamente. Vi siete mai fatti questa domanda? Sì, ma al di là di tutto ciò che accade intorno a me, chi sono io? E soprattutto perché sono? E magari se vogliamo azzardare, perché sono qui? Oh, da dove vengo? Oh, dove vado? Queste domande generalmente cominciamo a farcele quando, dopo l'adolescenza, cominciamo ad abbracciare quel meccanismo della vita che poi alla fine impone un certo movimento. C'è un momento, c'è un momento sempre nella nostra esistenza in cui certe domande sorgono dal nostro interno. Ci sono, poi alcuni reagiscono in un modo, alcuni reagiscono in un altro. Altri si accontentano di certe spiegazioni, quindi abbracciano una religione e se la portano fino al cimitero. Senza sviluppare il meccanismo del pacchetto, tutto compreso. Questi sono i tiepidi che non hanno il coraggio di far emergere la loro divinità. Poi ci sono quelli che assolutamente abbandonano ogni principio e ogni realtà che potrebbe portarli ad una certa consapevolezza perché ritengono utile non occuparsi di cose oltre la loro esistenza fisica. Questi sono quelli che, non prendendo scelta, vanno ad alimentare quella massa di individui che poi avrà bisogno di altre generazioni per potersi sviluppare nell'evoluzione. E quindi possono anche abbracciare realtà negative al punto che li portano sempre di più ad abbandonare la loro natura divina. Quindi, usando un termine religioso, giorno dopo giorno demonizzano sempre di più la loro natura, due luce. Fino ad arrivare anche all'annullamento momentaneo di questa manifestazione di Dio. Poi ci sono invece quegli esseri che abbracciano una qualche religione, un qualche pensiero filosofico o leggono un libro, o vedono un film, o ascoltano una parola e cominciano a costruire, a sviluppare, a far lavorare questo talento, a renderlo sempre più fruttuoso, farlo fruttificare dentro di sé perché prima il seme cresce dentro la terra e poi si sviluppa verso la creazione, inondando la creazione di quella grazia e di quell'energia che il seme ha prima mantenuto dentro di sé. Quindi ecco perché ci è stato detto ama il prossimo tuo come te stesso. Perdona gli altri ma prima impara a perdonare te stesso. Tutti questi eventi accadono dentro di noi. Quando siamo capaci e abbiamo fatto questo corso evolutivo dentro di noi, possiamo finalmente esprimerci all'esterno perché all'esterno noi troviamo la vera materia di vita che attraverso le relazioni umane fornisce a noi quel meccanismo che possiamo identificare nella nostra evoluzione. Quindi gli altri sono e vengono la nostra scuola. Ecco, la necessità di incontrare, la necessità di condividere, la necessità di amare, la necessità di odiare. Perché solo attraverso gli altri noi possiamo esprimerci in questi meccanismi. Da subito non possiamo arrivare a tanto. Sono sempre gli altri il nostro confronto. Ecco la necessità sulla Terra di incontrarsi in una famiglia biologica per continuare a sviluppare, a risolvere quei meccanismi che ci portiamo dietro, quelle realtà che ci portiamo dietro da infinite esistenze. Programmiamo ogni cosa affinché il prossimo divenga la nostra materia di studio. è un meccanismo che unisce, che condivide, che risolve l'incontro con gli altri. Ecco la necessità di sviluppare attraverso le relazioni umane di vivere questa scuola, di vivere questa scuola che chiamiamo vita. Ecco la spiegazione del perché ci incontriamo. Del perché abbiamo deciso in quel giorno, a quell'ora, di incontrare una nuova realtà che cambierà forse per sempre la nostra vita o la farà rimanere così tale e quale, ma la proverà per qualche anno, per qualche giorno, oppure innesterà nel nostro meccanismo di vita qualche energia nuova affinché noi possiamo accogliere nuove, vivere nuove realtà, nuove prospettive. Tutto questo può accadere attraverso il prossimo che noi abbiamo scelto di servire. Come? Amandolo. L'amore e il servizio. Ma non è che noi dobbiamo servire a un prossimo a caso. Io non mi posso occupare di situazioni che non conosco. Il mio prossimo è quella realtà che vive nella mia vita. Ecco perché si chiama prossimo. Se no si chiamerebbe lontano. Questa logica non la dobbiamo mai far uscire dalla nostra comprensione se vogliamo veramente concepire questo programma. Quindi questo prossimo ha bisogno che noi ci immedesimiamo per poter comprendere il meccanismo di relazione che li porta a condividere, a vivere o a manifestare certe realtà che possono disturbare o consolare la nostra esistenza. Finché avremo materia da perseguitare troveremo che ci perseguita. E anzi, è un dono questo. È un meccanismo che fa crescere. Perché se un essere umano fosse solo in una città non potrebbe mai raggiungere quel livello di evoluzione. Perché non avrebbe modo di confrontarsi. Non avrebbe modo di svilupparsi. Di concepire, di realizzare, di capire, di conoscere, di approfondire. Ecco a cosa serve il prossimo. Che deve essere riconosciuto come scuola. Come meccanismo evolutivo. Come dono. Come grazia divina. Anche se ci fa del male. Perché se ci fa del male significa che sta lavorando. La lingua batte dove il dente ruota. Sempre. Questo meccanismo funziona soprattutto a livello carmico. Quindi non incontreremo mai un persecutore che a caso viene lì e ti prende come capo espiatorio e ti bombarda. C'è sempre una relazione con coloro che ci fanno soffrire. E' un meccanismo che noi avviciniamo a noi attraverso un'attrazione che con la mente non possiamo comprendere. Ma quando avremo la coscienza per poterlo fare. E generalmente questo accade tutte le volte che moriamo. Ma quando avremo questa coscienza. Noi ci renderemo conto che tipo di programma ci ha visto incarnare la nostra esistenza. Un programma che abbiamo stabilito punto per punto.